Facciamo rientro in Italia per parlare di bambini con un'indagine svolta da Caritas Italiana in collaborazione con Save the Children. Lo facciamo grazie ad un gradito collegamento, quello con Walter Nanni di Caritas Italiana. Buongiorno Walter, ben trovato! Buongiorno a voi! Come stai? Bene, tutto bene, grazie. Grazie a te per la disponibilità a trascorrere con noi qualche minuto oggi. L'occasione è questa indagine su povertà, sogni e rete di supporto per i nostri bambini. Di cosa ci parla questa indagine? Abbiamo condotto assieme a Save the Children Italia un'indagine sulla povertà minorile, soprattutto nella fascia 0-3 anni, che è la fascia più importante per lo sviluppo del bambino, della persona, sono i primi mille giorni di vita che ormai in tutta la psicologia dell'età evolutiva si afferma essere una fase cruciale. Se questa fase cruciale viene vissuta all'interno di famiglie in situazioni di povertà, è chiaro che il futuro del bambino diventa anche questo, un po' a rischio, dal punto di vista formativo, ma anche psicologico, sociale, relazionale. Ci sono tante opportunità che vengono a mancare, proprio perché la famiglia ha poche risorse. Il rapporto si concentra su questo, con un'indagine che è stata sia quantitativa che qualitativa attraverso l'ascolto anche delle famiglie e degli operatori. Grazie, grazie Walter. Come dice il titolo stesso dell'indagine, povertà, sogni e arreti di supporto, quanto è necessario che istituzioni e enti vari facciano un lavoro sinergico per garantire migliori servizi alle famiglie e quindi ai bambini, soprattutto nella fase più tenera della loro età? Ci sono alcuni dati che colpiscono e fanno capire anche il motivo della necessità di una maggiore presa in carico. Se noi abbiamo intervistato un campione di famiglie con bambini 0-3 anni che si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto ed escono fuori dati importanti che coinvolgono anche la rete delle associazioni e delle istituzioni. Il 75% di queste famiglie con bambini 0-3 anni, famiglie in situazione di difficoltà, povertà, il bambino non l'hanno potuto iscrivere al nido. E questo perché non in tutto il territorio italiano il livello di reddito è uno dei fattori che può privilegiare l'accesso al nido. Un altro elemento importante è che il 42% delle mamme italiane aiutate da Caritas con bambini di questa fascia d'età ha dovuto rinunciare a curarsi. Anche questo diventa un elemento importante, cioè diciamo poco attento alla responsabilità anche genitoriale della madre. E poi un altro dato importante è che quando abbiamo chiesto a queste famiglie se erano aiutate anche dai servizi sociali, soltanto il 40% di queste famiglie è preso in carico dai servizi sociali del territorio. Quindi vuol dire che c'è una mancata presa in carico e un mancato poi lavoro in rete nei confronti di queste famiglie. Come facciamo secondo te a superare questo gap? Allora sicuramente ci possono essere delle azioni che sono di responsabilità del settore pubblico. Non dimentichiamo in questo senso che stiamo parlando di minorenni in una fascia d'età molto bassa, quindi la presa in carico deve essere assolutamente complessiva. E in un certo senso possiamo anche dire che se il Comune non ce la può fare dal punto di vista delle relazioni, delle risorse economiche a disposizione, allora noi possiamo dire che è possibile collegarsi diciamo alla rete dei servizi sociali informali, del privato sociale, del volontariato presenti sul territorio che potrebbero fornire una risposta congiunta. E poi sicuramente aumentare la possibilità di avere delle risorse economiche favorendo anche un accesso migliore a alcune misure come l'assegno universale, il reddito di cittadinanza, ad esempio alcune famiglie non erano informate che possono avere diritto al pediatra anche se sono irregolari sul territorio come il caso di alcune famiglie straniere. Soltanto il 40% ha la possibilità di averlo sistematicamente, c'è un 14% che non si è mai rivolto al pediatra di libera scelta. Quindi c'è un problema di informazione ma anche di risorse economiche messe a disposizione. Nel studio con noi c'è Maria Pia Picciafuoco che ti fa un'ultima domanda. Sì grazie, ben ritrovato dopo parecchio tempo. Noi ci siamo occupati di Caritas fin dai tempi della radio che ha preceduto la fondazione della TV. Quindi il nostro carissimo Walter Nanni veramente lo ritrovo volentieri. E ritrovo un dettaglio proprio nel vostro sito a proposito di bambini. Una notizia che mi ha intenerito. Per una volta, Tony, ti stupirò, non faccio domande complesse. Voglio semplicemente rilanciare il fatto che in Sardegna, in provincia di Sassari, c'è stato un torneo di calcio. I bambini ci stanno a cuore presso un parco che si chiama addirittura Parco Inclusivo a Tempio Pausania. Ecco queste sono iniziative, in particolare l'evento era a favore del Fondo Emergenza Pediatrica che mostrano proprio la creatività della Chiesa quando è il cuore Caritas appunto. Complimenti, ce ne vuoi citare qualcun'altra? Beh, ci sono esperienze molto interessanti anche per quello che riguarda il diritto ad incontrare amici e attività ricreative. Il 40% dei genitori che si rivolge alla Caritas che ha difficoltà economica ad esempio non riesce a invitare persone, bambini, compagni di scuola a casa perché sono in situazione abitativa molto disagiata. Ecco, alcune esperienze di oratori, soprattutto salesiani ad esempio, sono in questa direzione perché offrono la possibilità di svolgere feste di compleanno, momenti di incontro, in luoghi neutri che non sono quelli della casa e così quindi la famiglia in difficoltà non rinuncia a festeggiare il compleanno. E questo è importante perché non è soltanto un problema di lavoro, sussidi economici. Noi crediamo che proprio nelle relazioni sociali si acquista la possibilità di avere una maggiore inclusione sociale e quindi offrire la possibilità di festeggiare il compleanno del bambino in un luogo che non è casa ma un luogo diverso gratuitamente diventa una soluzione strategicamente molto efficace. Ecco, un esempio appunto di capillarità, quello che dicevo prima. Sicuramente si sono moltiplicate queste cose, dico bene, da un po' di decenni anche se Caritas ha fatto sempre parte delle 229 diocesi italiane. Che mi dici? Sì, sì, sicuramente si sono moltiplicate anche grazie ad alcuni finanziamenti. La fondazione per i bambini, i progetti 8 per 1000 Italia, ci sono stati dei grossi filoni che hanno insistito su questo settore della povertà educativa, del supporto alle famiglie con genitori, famiglie con genitori e bambini piccoli. E quindi grazie a questo tipo di interventi è stato possibile moltiplicare questo tipo di progetti. Molto bene, grazie Walter per averci restituito un po' il quadro della situazione oggi in Italia relativa alla cura dei bambini 0-3 anni. Speriamo di ritrovarti presto per magari affrontare altri temi e ne approfittiamo per augurarti buon proseguimento di giornata. Grazie anche a voi, buona giornata. Arrivederci e a risentirci a presto. Dunque, Maria Pia, se non hai aggiornamenti urgenti, prima di dare la linea alla regia vorrei condividere qualche altro scatto che ci è giunto al 331 737 8033 con l'aiuto della regia. Appena vedo qualche immagine, ecco questa è l'immagine che ci avevano inviato Natale e a Rosa da Rubiera in provincia di Reggio Emilia. Una foto evidentemente molto bucolica dalla loro fattoria. Grazie. E poi ancora uno scatto che ci porta indietro nel tempo, anche questo molto bello cinematografico direi quasi. e ci arriva con il buongiorno di Elena dalla Sardegna che ha un ricco repertorio di foto d'epoca. Poi invece torniamo ai giorni nostri con il buongiorno che ci regala Stefania da Napoli e con l'augurio di un buon inizio di settimana. E lei ci ricorda appunto la bellezza della vita. Poi altare del santuario dedicato alla Madonna di Pietralba, siamo a Nova Ponente in provincia di Bolzano e chi ci scrive è Valeria, grazie Valeria. E poi ancora uno scatto d'epoca. Papà Alberto classe 1915, cari saluti da Maria Antonietta da Ponte di Mossano, provincia di Vicenza. E poi uno degli altarini per il Corpus Domini di Pesca Seroli a inviarci questo scatto. E Maria, che bella questa iniziativa che ha avuto luogo a Pesca Seroli. E poi Mina da Francavilla Fontana con questo panorama mozzafiato ci augura buongiorno. Lei in questo momento è in Calabria nella sua abitazione estiva e dal suo balcone gode di questo bellissimo panorama. Insomma, grazie Mina che ci segue anche in trasferta e grazie per questo bellissimo regalo che ci fai. Bene, andrei in pubblicità, noi ci ritroviamo subito dopo, avremo Maria Pia un nuovo spazio per notizie ed aggiornamenti per cui possiamo recuperare in tutta tranquillità. Grazie mille.